Buona giornata, prima edizione del TV giornale di questo giovedì 16 dicembre, diverse le notizie come sempre, ci occuperemo di Covid, ieri ci sono stati altri due decessi nel ferrarese, 98 nuovi positivi, ma in parallelo è stata presentata anche la campagna Proteggi Chiami, che è un'iniziativa della regione Emilia Romagna e che spiega perché vaccinare i bambini. Vi parleremo tra poco tra l'altro della prefettura, perché ieri mattina è stato dato l'ok agli eventi di Capodanno e poi vi presenteremo fareidritti.it, un blog femminile sul PNRR. Spazio poi anche alla cronaca, iniziativa del comune, tra cui un nuovo dizionario in dialetto donato alle scuole. Ma come dicevo poco fa, parliamo subito di prefettura, perché il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito ieri mattina, presieduto dal prefetto Rinaldo Argentieri. Gli hanno partecipato il questore calabrese, i comandanti provinciali dei carabinieri della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il vice sindaco di Ferrara Nicola Lodi e ancora il direttore generale dell'azienda ospedaliera Bardasi, chiedo scusa, e il direttore sanitario dell'Ausl Ciotti. All'ordine del giorno, il calendario delle manifestazioni pubbliche del periodo natalizio di fine anno e in particolare l'inaugurazione della nuova sede dell'ente Paglio il 19 dicembre, Galactica, ovvero l'evento di Capodanno in Fiera e la festa di Capodanno con l'incendio del Castello Estense. Ascoltata la relazione svolta dall'autorità sanitaria sull'andamento dell'epidemia e sulla conseguente pressione sulle strutture spedaliere, il comitato ha deciso di approvare il programma degli eventi nel segno della massima apertura possibile alle occasioni di socialità e di festa, ma nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione del contagio. In tale ottica è stato deciso in occasione di tali eventi l'obbligo della mascherina anche all'aperto, oltre al Green Pass rafforzato per gli eventi per cui previsto dalla legge, ovvero quelli in programma il 31 dicembre. Inoltre, al fine di scongiurare il più possibile gli assembramenti, la partecipazione del pubblico sarà contenuta entro limiti sensibilmente inferiori a quelli pure consentiti dalle norme anti-Covid in vigore per la zona bianca. Le decisioni sono state assunte all'unanimità. E intanto, come dicevamo in apertura, ci sono stati due nuovi decessi per Covid nelle ultime 24 ore, sono 98 nuovi positivi, ma tutti i dettagli li vediamo nel bollettino. Due decessi, 13 nuovi ricoveri di cui due in terapia intensiva e 98 nuovi positivi su 536 tamponi refertati. E questo è il bilancio delle ultime 24 ore nel Ferrarese. A perdere la vita sono stati un uomo di 69 anni e una donna di 93. A livello regionale si registrano 1.898 nuovi positivi su 39.890 tamponi con un'incidenza pari al 4,8%. I guariti in Emilia-Romagna sono 634, di cui 72 nel Ferrarese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva a livello regionale sono 99, più 7 rispetto al giorno precedente, di cui 10 a Ferrara. La situazione attuale preoccupa sempre più, tanto che il presidente delle regioni Emilia-Romagna non è escluso il rischio di zona gialla durante le festività natalizie. A margine di un'iniziativa tenutasi a Riccione, il governatore ha dichiarato «Pur avendo in questi giorni superato il numero di contagi dello stesso periodo dell'anno scorso, abbiamo un numero molto inferiore di decessi e anche di ospedalizzazioni. Se anche la regione dovesse passare a breve in zona gialla, non cambia nulla», precisa Bonaccini. «Non chiuderà nessuna attività economica, a differenza del passato. Dobbiamo però continuare a combattere e a vaccinare il più possibile», dice il presidente, che riporta i risultati della sua regione. «Abbiamo superato il 91% dei prime dosi, siamo oltre l'89% di seconde e superate 800.000 terze dosi. Cominciano a prenotare le famiglie per i propri bambini dai 5 agli 11 anni». Intanto, nel Ferrarese sono state effettuate martedì 14 dicembre 2.919 vaccinazioni, di cui 171 prime dosi, 253 seconde dosi e 2.513 dosi addizionali. Dal 27 dicembre 2020, data di inizio delle vaccinazioni, sono state somministrate complessivamente 632.841 dosi, di cui 284.383 prime dosi, 264.163 seconde dosi e 84.295 dosi addizionali. In questo servizio si è parlato anche di vaccinazione ai più piccoli, ma perché è importante vaccinare anche i bambini che vanno dai 5 agli 11 anni? La risposta arriva ad alcuni professionisti della sanità in una serie di video distribuiti dalla Regione Emilia-Romagna. Vediamo. Perché la vaccinazione anti-Covid è stata estesa anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni? La Regione Emilia-Romagna ha fornito tutte le risposte in nove video disponibili online. Coinvolti nel progetto sono il dottor Federico Marchetti, direttore di pediatria e neonatologia dei presidi ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, e la dottoressa Silvia Cattani, pediatra di famiglia di Castelfranco Emilia nel Modenese. Sentiamo quest'ultima per capire il perché è importante vaccinare i più piccoli. Vaccinare i bambini è importante per salvaguardare la loro salute globale. Il diritto alla salute è un diritto di tutti, è un diritto anche dei bambini, per cui anche i bambini devono poter accedere alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2. La pandemia ha portato a dei danni importanti, non solo in termini di salute fisica, ma soprattutto nella fascia pediatrica, in termini di salute globale, di benessere globale. Pensiamo all'isolamento, alla DAD, all'interruzione quindi della frequenza scolastica, ai tamponi, agli isolamenti, alle quarantene, all'interruzione delle attività ricreative, sportive, extrascolastiche. Ecco, il vaccino ai bambini dovrebbe permettere a questa fascia di popolazione che ha così sofferto per la pandemia di riportarli a una vita normale, una vita come quella che avevano prima, che è fatta di scuola in presenza, appunto, di amici con cui giocare veramente, non solo attraverso uno schermo, di stare insieme anche al di fuori dell'ambiente scolastico, di frequentare i nonni e le persone più fragili della loro famiglia senza la paura di contagiarli. Per cui io credo che il vaccino sia un bellissimo regalo che possiamo fare ai nostri bambini per proteggerli dall'infezione, proteggere loro stessi, i loro singoli in primis e tutte le persone che vivono intorno a loro. Rimaniamo sempre su notizie in ambito regionale che ovviamente riguardano anche la provincia di Ferrara perché anche quest'anno la Regione Emilia-Romagna garantisce borse di studio al 100% degli studenti idonei. A disposizione ben 102 milioni di euro, 4,5 in più rispetto all'anno precedente. Vediamo. La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno per il diritto allo studio. Anche per l'anno accademico 2021-2022, il 100% degli studenti idonei, 26.400, riceveranno le borse di studio universitarie in danaro e servizi. La Regione rinnova anche quest'anno l'impegno a coprire il 100% delle borse di studio attraverso servizi e benefici economici. Quest'anno il totale dei benefici ammonta 102 milioni, siamo cresciuti di oltre 4 milioni rispetto all'anno scorso e andiamo in qualche modo a copertura di questa cifra che vediamo crescere tutti gli anni ma come in realtà sta crescendo il nostro sistema universitario quindi con una nota anche tutto sommato positiva per il futuro delle università della nostra Regione andiamo a coprirla grazie anche al contributo degli Atenei che quest'anno insieme a noi sostengono questa politica anche per dare corpo attivamente ad azioni all'interno del patto per il lavoro e per il clima che abbiamo siglato tutti insieme. Stabili le iscrizioni in Emilia-Romagna con 169 mila iscritti tra studentesse e studenti che hanno già scelto di studiare in Regione e quest'anno un aiuto concreto è destinato anche a ragazzi e ragazze provenienti dall'Afghanistan. La Regione infatti ha messo a disposizione risorse per 380 mila euro in borse di studio in danaro a cui si aggiungono i servizi resi disponibili da Ergo, l'azienda regionale per il diritto agli studi superiori e dagli stessi Atenei. Si chiama farediritti.it ed è il blog di recentissima pubblicazione di un gruppo di donne di diversa età, professione, cultura e pensiero che hanno deciso di mettersi insieme per creare un gruppo di opinione e di pressione a livello locale sulle misure del piano di ripresa e resilienza. Si definiscono imperfette, empatiche ed attive ma fortemente impegnate anche attraverso questa iniziativa a far sentire sul territorio la voce di tutte le donne che chiedono uguaglianza di diritti in campo economico, sociale, culturale e politico. A presentare il blog due promotrici del gruppo, Dalia Bighinati, giornalista e direttrice del TV giornale di Telestense e Paola Castagnotto, presidente del Centro Donna Giustizia. Sentiamo. Il piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbe avere proprio la funzione di far recuperare ai paesi europei di quella situazione di crisi pesante che è stata acuita in alcuni paesi come il nostro, indotta in altri paesi dalla pandemia. Noi riteniamo, abbiamo ritenuto come gruppo di donne che questo piano probabilmente avrà un esito positivo se tutti i cittadini e le cittadine ne saranno consapevoli. In modo particolare abbiamo ritenuto di portare il punto di vista e la voce delle donne perché questo piano affida a sei misure che sono importanti, ciascuna ha un proprio settore di operatività, però affida da un punto di vista trasversale a tutte le misure del piano un ruolo importantissimo per le donne e per la società, cioè il recupero del divario di genere, sia nel campo lavorativo, nel campo economico, nel campo sociale, nel campo anche culturale. Quando intendo culturale parlo soprattutto della cultura digitale, senza la quale oggi è difficile andare da qualsiasi parte. Quindi abbiamo deciso di creare una specie di comitato, ma non l'abbiamo chiamato comitato, l'abbiamo chiamato gruppo e questo gruppo si farà conoscere diciamo alla città e dal mondo attraverso questo blog. L'obiettivo è intanto quello di avere una vita che si evolve necessariamente nella creazione di un'associazione. Associazioni ce ne sono molte, noi apparteniamo tutte ad associazioni. E' quella di accompagnare questi sei anni, che saranno sei anni strategici, ma non per l'aggiustamento di quello che non siamo riusciti a fare prima, ma per il cambiamento dell'Italia, perché l'Europa questo ci chiede. Attivate, utilizzate un percorso di cambiamento dell'Italia. Bene, allora noi abbiamo detto nel nostro piccolo, non siamo delle tuttologhe, cerchiamo di raccogliere competenze diverse per aprire da un lato conoscenza, perché abbiamo bisogno di conoscere, di conoscere che cosa è uscito, seguire tutti anche i siti che di questo si occupano, perché sono molte le associazioni. Produrre, se possibile, informazione, ed ecco perché il blog. Il blog è qualcosa poi d'aglia di rameglio, di accessibile, può essere consultato, puoi trovare prodotti interni, ma anche riferimento a link di approfondimento. Noi abbiamo un grande vuoto sulla evoluzione tecnologica. Penso alle donne. Se è vero che soltanto il 38% delle donne italiane hanno una formazione digitale di base, e se è vero che il 60% dei lavori che noi oggi conosciamo spariranno, e quindi saranno nel futuro tutti lavori fortemente tecnologici, come potranno le donne entrare se non superano già un gap, che è per esempio di formazione. Perché non pensare anche di sollecitare una formazione digitale diffusa? Ecco, noi vorremmo a livello locale portare un interesse diffuso nella componente femminile della società, ma portare un interesse agli obiettivi che questo piano si pone a livello nazionale ed europeo. Non crediamo di essere troppo ambiziosi. Noi ci mettiamo al servizio di questi obiettivi. Quindi invitiamo le donne ad andare a vedere questo nostro blog, se sono interessate anche a scriverci, per poter iniziare una operatività vera e propria con l'anno nuovo. E adesso invece cambiamo argomento. Parliamo di scuola. La conoscenza della nostra lingua porta a maggiore integrazione. Lo dichiara il sindaco Alan Fabri, che ha presentato un libro finanziato dal Comune che spiega il dialetto ai più piccoli. Vediamo. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, ha presentato il testo promosso e finanziato dal Comune Impariamo il dialetto ferrarese, distribuito in mattinata dall'assessore Dorota Kusiak in tre scuole a una settantina di studenti, in rappresentanza dei circa 4.600 alunni che da questi giorni potranno consultare il prontuario del vernacolo locale. Quello distribuito e donato alle scuole dal Comune è un piccolo dizionario di dialetto ferrarese per giovanissimi alunni con le illustrazioni del noto disegnatore Alberto Lunghini, i detti popolari, le parole di uso più frequenti e quotidiano. Il testo è diviso in brevi capitoli dedicati ai termini riferiti alla città, alla SPAL, alle famiglie e alle espressioni per definire animali, cucina, cibo, feste e molto altro ancora. In apertura c'è un'introduzione storica che ripercorre in sintesi l'evoluzione della lingua, il latino, gli influssi dei galli che abitarono la pianura del Po, fino ad arrivare alla lingua di cui fu artefice il popolo tramandata di generazione in generazione. Conoscere la lingua locale aiuta a conoscere ancora di più la storia di se stessi, ha dichiarato il primo cittadino Alan Fabri, motivando così la scelta. Parliamo adesso di mobilità sostenibile, su cui punta particolarmente l'Emilia-Romagna. È la stessa regione a renderlo noto in una conferenza dove sono stati anticipati gli investimenti per i prossimi anni. Vediamo come. Trasporto pubblico, mobilità pulita e ciclo pedonale, logistica e merci su ferro. In Emilia-Romagna sono stati presentati interventi e investimenti per la mobilità sostenibile per 3,6 miliardi di euro che saranno distribuiti nei prossimi tre anni. Ne hanno parlato in conferenza tra gli altri il presidente della regione Stefano Bonaccini, l'assessore alla mobilità e trasporti Andrea Corsini e la vicepresidente con delega alla transizione ecologica Eli Schlein. C'è una svolta secca, come avevamo promesso in campagna elettorale, una volta ottenute quelle infrastrutture che privilegiano la gomma che attendavamo da decenni in questa regione. Ringrazio la città metropolitana di Bologna di aver dato corso a un impegno preso che era quello finalmente del passante, peraltro molto rivisto e reso molto più, tra virgolette, green. Bisogna puntare decisamente sulla transizione ecologica, come prevede Next Generation New, come chiede l'Europa, come abbiamo previsto con le parti sociali nel patto per il lavoro per il clima che guarda l'agenda ONU del 2030, più investimenti sui treni, sulle ciclabili ciclopedonali, sulla logistica, sulla portualità, su tutto quello che è alternativo al solo uso della gomma, come per troppo tempo in questo paese e anche in questa regione è successo. Abbiamo di fronte degli anni dove la mobilità pubblica subirà delle grandi trasformazioni che sono anche in parte obbligate per raggiungere degli obiettivi che naturalmente noi condividiamo, che sono quelli di abbattere le emissioni climalteranti e quindi il trasporto pubblico può giocare una parte fondamentale, dare un contributo importante alla transizione ecologica. Abbiamo lavorato con l'assessore Andrea Corsini a un piano di investimenti che prevede l'arrivo nei prossimi otto anni di tre miliardi e mezzo sulla mobilità sostenibile. L'approccio è quello di una nuova visione di mobilità che punti alla mobilità sempre più appunto altra e quindi sostenibile e quindi a basse emissioni, verso zero emissioni, mobilità elettrica e intermodalità, rafforzamento del trasporto pubblico locale perché anche di questo stiamo parlando soprattutto per le aree più periferiche, ma naturalmente anche riuscire a integrare meglio i vari mezzi di trasporto. Pensate ai grandi passi che questa regione ha già fatto con gli abbonamenti ad esempio che prevedono la possibilità di utilizzare gratuitamente i bus delle due città tra cui si è pendolari e tra cui si viaggia in treno. Pensate al grande sforzo messo in campo per tenere insieme la questione sociale ed ambientale che rappresenta aver fatto la scelta del TPL gratuito per i giovani fino ai 14 anni e estesa quest'anno fino ai 19 anni con un criterio di progressività. E torniamo in città a questo punto perché presso la sede del centro di medicina di Via Verga è venuta la consegna alla Lilt Ferrara dell'assegno di fine campagna di sensibilizzazione legata all'Ottobre Rosa. Con la supervisione dell'assessore delle politiche sociali Cristina Coletti una delegazione di Lilt Ferrara guidata dal presidente Edgardo Canducci ha ricevuto dalla responsabile di struttura la dottoressa Roberta Squeo un assegno dell'importo di 1500 euro e ce ne ha parlato il direttore sanitario e cioè il professor Vincenzo Sorlazzo. Vediamo. L'Ottobre Rosa si è chiuso, ormai siamo abbondantemente a distanza perché ormai siamo in dicembre, però la collaborazione tra centro di medicina Ferrara e Lilt Ferrara ha ancora un tassello in questo 2021 mancante. Ci sono state tante iniziative che ci hanno visti impegnati per la prevenzione. C'è di fatti qui con noi il presidente Edgardo Canducci, i volontari della Lilt, membri del consiglio direttivo e poi l'assessore Cristina Coletti del comune di Ferrara che ha patrocinato, diciamo come comune, ha patrocinato diverse iniziative legate alla prevenzione. L'aspetto della prevenzione è sicuramente un aspetto che risulta fondamentale, ancora più adesso che siamo in uno stato che viene di nuovo prorogato nell'ambito dell'emergenza. Da parte dell'amministrazione chiaramente è un ringraziamento per quello che è stato realizzato in un mese di grande valore che è quello del mese di ottobre, legato appunto a tutta l'attività di prevenzione e a tutte le attività che il centro di medicina attraverso i volontari della Lilt sono riusciti, siete riusciti a mettere in campo. A nome del nostro amministratore delegato Vincenzo Pappes, a nome di tutto lo staff diciamo di centro di medicina di Ferrara, di tutti i senologi, di tutti i collaboratori direi che consegniamo questo assegno. Allora venga di qua professore che così, ecco qui, a fianco mettiamo l'assessore, e allora Roberta anche, allora facciamo un applauso, e questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo come sempre il nostro sito telestense.it e i nostri canali social, mentre la prossima edizione del TV Giornale è rinnovata alle 19.30. Grazie a tutti per averci seguito e a tutti buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.